Musica Pezza tonnellata di rifiuti pronti per essere abbandonati da locale ferma due persone, una tenta di scappare L'arte non ha limiti, seconda edizione di Disart, 5 giorni di eventi al CAMEC Nuovo assessore al commercio in comune alla Spezia, Alberto Giarelli, subentra a Marco Frascatore Immigrazione più che un pericolo, un'opportunità, così Oliviero Forti, esperto di politiche migratorie della Caritas Il mondo del palio si organizza per la centesima edizione, resta però il mistero del gonfalone junior scomparso Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Se giornali apriamo con la cronaca, una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale della Spezia Ha fermato nella giornata di ieri un autocarro che destava sospetti È emerso che il veicolo era immatricolato esclusivamente per trasporto di cose Mentre al lato del controllo a bordo si trovava anche un'altra persona Oltre che al conducente, alle richieste di documenti Il passeggero si dava alla fuga, tanto da rendere necessario un inseguimento a piedi All'esito del quale questa persona veniva fermata e sottoposta a ulteriori accertamenti Con l'ausilio della Polizia di Stato Da un controllo approfondito è emerso che si trattava di un cittadino marocchino Irregolare sul territorio nazionale, probabilmente collaboratore del conducente Un connazionale è titolare di una ditta edile che stava trasportando abusivamente Circa mezza tonnellata di detriti e scarti, probabilmente destinati ad essere abbandonati In qualche bosco Oltre alle violazioni previste agli articoli 82 e 214 del codice della strada Il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria Il passeggero aspirante fuggitivo, precisa una nota della locale Invece è stato denunciato per clandestinità in Italia Come previsto dal testo unico sull'immigrazione Cambiamo argomento Dal 18 al 24 novembre il CAMEC, Centro d'Arte Moderna e Contemporanea della Spezia Da poco riaperto dopo una serie di attività di restyling Ospiterà l'edizione 2024 di Disart Che quest'anno proporrà un programma davvero particolare Che coinvolge 6 laboratori didattici, 16 eventi dal vivo E un'esposizione permanente di oltre 100 opere Il servizio è di Vimalcarlo Gabbiani Le immagini di Davide Morino È stata presentata oggi l'edizione 2024 di Disart Il progetto promosso dall'associazione Agapo Che fa incontrare arte e solidarietà E che lancia un fortissimo messaggio di inclusione Sì, una bellissima iniziativa dell'arte e della disabilità Con Agapo, con i ragazzi che sono diversamente abili Ma che utilizzano lo stesso linguaggio dell'arte Per esprimere quello che hanno dentro Sarà una settimana molto bella I varie iniziative, i ragazzi e ragazze Che esprimeranno veramente con il loro talento E tutti noi potremo approfittarne per visitare il CAMEC Con questa bellissima iniziativa che viene ospitata E che ci darà tantissime emozioni Infatti invito tutta la cittadinanza a partecipare A questa settimana alla 18-24 con Agapo Con i ragazzi diversamente abili che ci faranno vivere emozioni E ci faranno riflettere su veramente l'importanza fondamentale Dei valori della vita L'arte è una forma di espressione Che spesso non è associata al divertimento, alla gioia C'è anche questa parte Ma la parte più importante è soprattutto quella che emerge Quando l'artista non trova magari le parole per esprimere se stesso La vita che lo circonda, le sofferenze, le gioie, i disagi E trova, diciamo, in questa forma espressiva Quindi imbrattando tele Oppure scarabocchiando su un foglio Oppure scolpendo Oppure con tantissime forme Trova la possibilità di esprimere e di dire Quello che prova attraverso quella forma Rispetto al passato Quando la presenza di un ragazzo disabile All'interno di una famiglia Era visto come un qualcosa da nascondere Da occultare Oggi si sono fatti molti passi avanti Anche se la battaglia per i diritti di queste persone speciali È ancora molto lunga La battaglia è ancora lunga Ma stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili Questa iniziativa ancora una volta lo dimostra Perché la Spezia è veramente una città inclusiva e solidale Queste iniziative portano avanti la lotta appunto alle differenze e all'inclusività La Spezia conferma realmente il suo primato La fondazione da sempre si dedica a progetti come DisArt Ma in particolar modo DisArt, come ho detto Deve diventare capofila di una serie di progetti e di attività Che aprono la strada all'inclusione sociale All'inclusione sociale e soprattutto di persone con disabilità Come è stato detto durante l'intervista L'arte deve essere fruibile a tutti i nostri cittadini Così come il CAMEC ha perso le sue porte a tutti Era giusto aprirlo anche a chi effettivamente per tanto tempo Non ha avuto la possibilità di fruire di questa iniziativa E fondazione è orgogliosa di poter contribuire a progetti come questi Che danno non solo la possibilità di inclusione sociale Ma la possibilità di dare valore veramente alla nostra ricchezza Alle nostre differenze e alla nostra cultura Parliamo di politica Questa mattina il sindaco della Spezza Perluigi Peracchini Ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore della Giunta Comunale In sostituzione di Marco Frascatore Proclamato eletto in Consiglio regionale Si tratta di Alberto Giarelli Già capo di gabinetto del sindaco Sindaco primo mandato Che prenderà le deleghe al bilancio Attività produttive e sport La nomina di Giarelli però non ha mancato di suscitare la piccata reazione di Fratelli d'Italia Mi sarei aspettato che il sindaco nominasse il nuovo assessore in assenza di un confronto Anche in virtù di un risultato elettorale che non ha visto brillare la lista sostenuta dalla sindaco Così in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Davide Parodi Cambiamo pagina Appuntamento nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Mazzetta Per un incontro di sensibilizzazione su alcuni delicatissimi temi Che riguardano le fasce più giovani della popolazione Organizzato assieme all'arma dei carabinieri L'evento si terrà il prossimo 12 novembre alle 18.30 Con il comandante della stazione dei carabinieri di Mazzetta Il maresciallo maggiore Giuseppe Cristiano Parleremo di bullismo Spiegano gli organizzatori Dipendenze di come i genitori possono cogliere i primi segnali di pericolo E intervenire in tempo Per informazioni è possibile contattare il 347 4966 965 La questione del trasporto pubblico alla Spezia non trova ancora soluzione Afferma la trattativa fra Seal e Trotta di Citelli La prima spinge per l'acquisto dei mezzi La seconda entro il 15 novembre Dovrebbe versare 2 milioni e 600 mila euro per acquisire il parco mezzi Nel frattempo il sindacato Cisla ha incontrato i lavoratori Per fare un quadro della situazione Ce ne parla Sergio Rioffi Non c'è pace per il trasporto pubblico spezzino Alla vigilia dello sciopero nazionale di domani Dove contrariamente a quanto accade di solito Gli autisti si asterranno dal lavoro per tutto il giorno Senza lasciare le due solite finestre in cui i mezzi venivano assicurati E se ancora oggi si registrano carenze nel servizio Con corse saltate sulle tratte collinari periferiche Quel che tiene banco è la diffida presentata da Saka Seal Nei confronti di ATC in qualità di stazione appaltante Nella quale si intima a trotta Ricitelli L'irrispetto dell'accordo stipulato una settimana fa Compreso il versamento di 2 milioni e 600 mila euro Per l'acquisto dei 48 mezzi attualmente nelle disponibilità di Seal Intanto nella serata di ieri si è tenuta l'assemblea indetta da Fit CISL Con i lavoratori del subappalto di ATC Esercizio Chiamati a scegliere tra la possibilità di rimanere con Seal Che continua ad avere sul territorio altri contratti di lavoro O passare ad una delle due società subentranti Che dopo l'assegnazione si divideranno i servizi o messo a gara ad ATC Dopo aver sottolineato di non aver condiviso la scelta di CGL e UIL E di altre organizzazioni sindacali di firmare l'accordo con le aziende Per il passaggio dei lavoratori tramite l'applicazione della clausola sociale Vista la mancanza di chiarezza sulla data di passaggio del servizio L'auspicio, conclude Fit CISL, è che lunedì 11 Giornata nella quale il passaggio del servizio dovrebbe essere ultimato Possa tornare quella serenità tra i lavoratori Quest'anno particolarmente provati da una vicenda che sembra non avere mai fine Parliamo ancora di sindacati Ci sono ancora circa 40 host di cop service rimasti senza lavoro E presenti nella graduatoria Devono essere assunti La politica non li dimentichi Così Luca Comiti, segretario generale CGL Marzia Ilari Segretaria FBCGL E Luciana Tartarelli Segretaria FIALS della Spezia Questa difficile vertenza va avanti da tre anni La politica rispetta gli impegni presi La regione intervenga e la ASL 5 Che ha un grande fabbisogno di osso in tutti i reparti ospedalieri Scorra la graduatoria Rossomando che è ancora aperta Si è svolto questa mattina nella sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre a Manarola Il primo consiglio direttivo presieduto dal nuovo presidente Lorenzo Viviani Nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Lo scorso 31 ottobre con l'insegnamento di Viviani Il Parco entra in una nuova fase Si legge in una nota con un organo direttivo rinnovato Grazie alle recenti nomine ministeriali dei sindaci Marco Fenelli di Vernazza e Francesco Sassarini di Monterosso al Mare Oltre a Stefano Macchio rappresentante di Ispra È stata formalizzata ieri a Bruxelles durante l'Assemblea Generale di European Support Organization La nomina dei presidenti delle varie commissioni di lavoro L'ingegnere Federica Montaresi attualmente commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale È stata nominata presidente della commissione intermodalità e logistica Sono molto contenta e onorata di questa nomina Spiega Montaresi che rivesta per me un significato particolare Che si è sempre caratterizzato per lo studio e lavoro effettuati su temi delle politiche comunitarie Di intermodalità e della logistica Sono convinta, ha aggiunto, che ricoprire questo ruolo costituisce anche l'opportunità di rafforzare il ruolo dei porti italiani nell'ambito di Espo Contribuendo a trovare un terreno comune di costruzione di buone pratiche con altri porti europei Il Partito Democratico organizza un incontro con Orlando e i consiglieri regionali Domenica alle 10.30 al Circolo Arci del Favaro Il Partito organizza un dibattito appunto come si diceva poco fa Tra i consiglieri regionali del partito ci saranno l'onorevole Andrea Orlando Il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale La consigliera regionale Carola Baruzzo Si parlerà del futuro della Liguria del partito dopo le elezioni regionali Al termine verrà offerto un aperitivo Proseguono le attività dedicate alla prevenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro L'offerta di Confcommercio è rivolta sia agli imprenditori che ai lavoratori Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso base di primo soccorso Le elezioni si svolgeranno in tre appuntamenti nella sede di Confcommercio A partire dal 22 novembre in via Fontevivo Chi fosse interessato all'iscrizione può contattare Laura Ghini Al numero di telefono 01875985133 Oppure mandare una mail all'indirizzo Ghini, Chiocciola, Confcommercio, Laspezia.it La conoscenza dei meccanismi che governano la mobilità umana Nella sua componente sociale, economica, politica e del diritto Presupposto imprescindibile per affrontare il complesso tema delle migrazioni Se ne è parlato questa mattina alla Biblioteca Beghi In un incontro con Oliviero Forti Giurista ed esperto in politiche migratorie Il servizio è di Italo Lunghi Le immagini di Sergio Diofili Processi migratori, un tema di grande attualità Qual è lo stato dell'arte a questo punto? Beh, sono tanti temi sul piatto Diciamo che gli ultimi giorni Soprattutto la vicenda Albania Ha tenuto alta l'attenzione dell'opinione pubblica Ma adesso abbiamo anche le elezioni americane Con Trump che non si è dimostrato particolarmente vicino a questi temi Quindi penso che i prossimi mesi e anni Saranno molto intensi sul fronte dei migranti E soprattutto della tutela dei migranti e dei rifugiati Pericolo o opportunità? Tendenzialmente io direi che è un'opportunità che va colta Chiaramente conoscendola E questo è un po' il cuore anche del libro che presento oggi E del mio intervento Bisogna distinguere tra quella che è la realtà E la rappresentazione della realtà che vuole fare qualcuno Soprattutto la politica Negli anni abbiamo dimostrato che Gli oltre 5 milioni di cittadini oggi residenti in Italia Hanno trovato un loro posto nella società Io anche a parte della mia esperienza Mi sento di dire che se ben gestita E soprattutto se svincolata ad un approccio meramente ideologico La mobilità umana può essere davvero una grande opportunità per tutti Oggi una cosa bella in questo convegno Tantissimi giovani Anche questo è un segno di speranza Averli qui oggi e potersi confrontare con loro È per me un privilegio e spero per loro una buona occasione Il Santo Padre ogni volta ci invita ad essere accoglienti Per i cristiani l'accoglienza è un imperativo categorico Che poi ci ricordi Papa Francesco Rafforza ulteriormente questa convinzione Quindi il tema dell'accoglienza per un cristiano Non deve essere un tema di discussione Né tantomeno di divisione Ogni giorno è a che fare con questa situazione Di immigrati, di persone che arrivano in stato di necessità Dopo aver passato avventure terribili Ecco conoscerli Mette in evidenza la loro umanità E sgombra il campo da tanti pregiudizi Esattamente Conoscere ogni fenomeno del resto Come quello migratorio specialmente Permette di poter andare poi Al nocciolo delle situazioni E direi di conoscere la profondità Delle persone che arrivano E' bello di scoprirci fratelli e sorelle Anche a volte nei termini giovanili Bro, tante modalità anche simpatiche Che fanno parte del linguaggio ormai Assodato anche tra i giovani E credo veramente che però portino con sé Anche un desiderio di trovare Quei punti in comune Quei punti che si possono costruire Anziché i muri direi E penso che in un tempo dove abbiamo Guerre in corso Abbiamo purtroppo situazioni idrogeologiche Che accadono Insomma tante situazioni dove L'umanità è messa spesso a rischio Credo che invece poter trovare Punti di positività e di rinascita Credo che sia una buona occasione Lunedì 11 novembre Nella sede dell'Istituto Superiore Di Scienze Religiose della Spezza Si terrà il secondo incontro Del ciclo dedicato Alla ministerialità della Chiesa Egidio Banti e Lorenzo Steardo Tratteranno il tema Dal concilio ad oggi In servizio di Raffaele Maulella E Sergio Di Ofili Proseguono gli incontri Dell'Istituto Superiore Di Scienze Religiose Ligure La sezione Spezzina Sui ministeri e ministerialità Nel popolo di Dio Il prossimo incontro Sarà con Egidio Banti Sul concilio Certamente Più che sul concilio Il titolo che è stato dato È Dal concilio ad oggi Il lungo cammino dei laici Nella Chiesa locale Quindi Il professore Egidio Banti Docente presso il nostro istituto Terrà proprio un incontro Su questo tema Cioè sul ruolo Che hanno avuto i laici All'interno della Chiesa locale Negli ultimi 70 anni circa Sarà introdotto Da il professor Lorenzo Steardo E seguirà poi una testimonianza Di una missionaria laica La signora Giacomazzi In questo modo L'istituto vuole Su incarico del Vescovo Ragionare, riflettere Far riflettere Proprio su questo importante tema Abbiamo avuto già un primo incontro Che ha come dire Preparato il terreno Spiegato cosa vuol dire Ministerialità Cosa vuol dire essere In qualche senso Al servizio Della Chiesa Ciascuno col proprio carisma Ciascuno con Le proprie qualità Con le proprie capacità E ora cominciamo a vedere Almeno in un passato recente Come questa cosa Si sia concretizzata Nella realtà Della nostra Chiesa locale Il Concilio Sono passati ormai 60 anni Anche di più È stato un evento così Talmente proiettato nel futuro Che in 60 anni La Chiesa non è ancora riuscita La recepivo completamente Certamente Quel documento in particolare Che trattava i laici La Lumen Gentium Che parlava proprio addirittura Della Chiesa stessa Dell'identità stessa Della Chiesa È ancora bisogno Di essere studiato Approfondito Abbiamo visto anche Il Sinodo di Vescovi Oggi si parla dello stile Della Sinodalità Ma che era già Dentro a quei documenti Era già stato preannunciato Era già stato Descritto In un certo senso Eppure ancora Abbiamo bisogno Di tempo Per come dire Digerirlo Assimilarlo E piano piano Scoprire la ricchezza Che è stata Quel grande evento Quindi ricordiamo L'appuntamento Lunedì 11 novembre Con due personaggi Anche di Artissima Cultura Spezzini Certamente Quindi lunedì 11 novembre Presso l'Istituto Di Scienze Religiose In via Malaspina 1 Dietro Piazza Chiodo Alle ore 17 e 30 Sono già 450 mila voti Raccolti in meno di due mesi Dal lancio del dodicesimo Censimento dei luoghi del cuore Del FAI Le votazioni sono aperte Fino al 10 aprile 2025 Su Iluoghi del cuore Punto ite I moduli cartacei Sono scaricabili dal sito Ad oggi In Liguria Il terzo posto Della classifica provvisoria È la chiesa di San Giorgio Nel borgo di Tellaro Alerici Dialogo e partecipazione Attiva per gli studenti Il parente uccelli Arzelai inaugura Il nuovo corso Nelle assemblee Spazio Dedicato a problemi E progetti Cambia anche il rapporto Tra le attività Extrascolastiche Di arricchimento Dell'esperienza educativa Dalle iniziative più istituzionali Come l'assemblea degli studenti Ce ne parla Sergio Riofili Un modo originale di concepire L'assemblea scolastica Improntato al dialogo E alla partecipazione Accade al parente uccelli Arzelà di Sarzana Istituto che con una popolazione Scolastica di quasi 1300 studenti E una sessantina di classi Distribuite tra tre indirizzi Rappresenta una delle più importanti Realtà scolastiche A livello provinciale Quest'anno insieme agli altri Rappresentanti al preside Abbiamo deciso di cambiare La metodologia delle assemblee Infatti distingueremo Le assemblee d'istituto Che sono proprio degli studenti Per discutere dei nostri problemi E degli argomenti Che più ci interessano Da gli eventi annuali Come può essere La giornata della memoria Facendo invece delle conferenze Riservate a un numero minore di classi Più interessate L'assemblea degli studenti Sarà quindi focalizzata Esclusivamente su temi Di interesse dei ragazzi Concentrandosi su problemi E progetti specifici Quest'anno come rappresentanti D'istituto Abbiamo una maggiore responsabilità E indipendenza Soprattutto grazie Alla collaborazione Del dirigente scolastico Le nostre scelte E le nostre idee Avranno maggiore importanza Volevo accennarvi Una tra le tante iniziative Di noi rappresentanti Di quest'anno Abbiamo in mente Di proporre Dei gadget d'istituto Tra cui felpe Pantaloni Borracce Per quanto riguarda Il logo d'istituto Ci piacerebbe tantissimo Avere la collaborazione Di tutti gli studenti Magari studenti Pratici nel disegno Come rappresentante D'istituto Insieme alla mia lista Appunto vogliamo riproporvi Un evento che C'è ogni anno Ovvero la partita di fine anno Assieme al talent Che invece si svolgerà a Natale In una maniera un po' diversa Perché appunto Noi quest'anno Cercheremo di Riunire tutti gli studenti In modo tale Che si possa evitare Quello che c'era Gli anni scorsi Ovvero un talent Dove gli studenti Dovevano seguire in classe E collegarsi alla diretta Quest'anno invece Noi puntiamo a farlo Tutti insieme Così che ogni studente Possa vedere Quelli che si esibiranno Dal vivo Una passeggiata a salutare Con partenza Dalla sede del canale lunense Arriva al complesso Delle ex ceramiche Vaccari Una degustazione Di prodotti A chilometro zero E una seduta yoga Saranno i diversi momenti Che caratterizzeranno Il prossimo 10 novembre Una giornata speciale Dedicata al tema Della prevenzione Sentiamo le interviste Raccolte Da Vimal Carlo Gabbiani E Raffaele Maulella Domenica prossima Sarzana Si terrà Una giornata Dedicata alla prevenzione Del tumore femminile Un modo per riflettere Concretamente Su quanto sia importante Adottare un corretto Stile di vita Sì Questo evento Si rientra nel progetto Che oramai va avanti Da quattro anni Che abbiamo La prevenzione in cammino Una montagna di prevenzione Proprio per portare La prevenzione A tutta la popolazione È importantissimo Viene in chiusura Di quello che è Il mese del nastro rosa Che è il mese di ottobre Proprio per parlare Di prevenzione Alle donne Ed è organizzato Infatti da Lilt e CAI Che hanno il progetto Una montagna di prevenzione Ed è organizzato Con le donne Di col diretti Quindi le aziende agricole E con le donne Del consorzio Sul canale lunense È importantissimo È la nostra modalità Ormai sono quattro anni Che noi la prevenzione La intendiamo Come una prevenzione Partecipata Una prevenzione attiva Non ne parliamo In un convegno O in una stanza chiusa Ma la facciamo E la facciamo fare Alle persone Quindi le portiamo A camminare Sui sentieri Questa volta Le porteremo Oltre che a camminare Avremo delle esperienze Particolari Perché si farà yoga All'aperto Ci saranno Degli esercizi Di mindfulness Guidati da uno psicologo E sperimenteremo Anche quella Che è la sana alimentazione Grazie alle donne Di col diretti Alle aziende agricole Che prepareranno Dei piatti semplici Con i prodotti locali A chilometro zero Una passeggiata Alla portata di chiunque Si può venire Con tutta la famiglia Sì In un percorso Che è stato No veramente bello E fa parte anche Di quelle che sono Le francigene Ed è un'idea Del CAI della Spezia Per l'anno prossimo Quella di cominciare A raccontare i cammini Per l'anno del giubileo Questo cammino Nella giornata di domenica È interpretato Come un cammino Di inclusione In cui tutte le persone Stanno assieme In cui si recupera Una socialità Che è quanto mai importante Riprendono Nella sede di Aidea In via Persio 27 gli incontri Con la medicina Il primo si terrà Venerdì 8 novembre Alle 17.30 A cura della dottoressa Anna Maria Di Capua Ed è dedicato Alla medicina di genere In Italia ogni giorno Mille persone Si ammalano di cancro E la cura Si chiama ricerca Da qui l'iniziativa Dell'Associazione Italiana Per la ricerca sul cancro Che promuove Una raccolta fondi Con la campagna I cioccolati Della ricerca Sabato 9 novembre Alla Spezia L'appuntamento Con i volontari Dell'AIL Che è in piazza Beverini Di fronte a Zara Sabato 9 novembre Alle 15 Nel centro storico Di Brugnato Il club alpino italiano Sezione della Spezia In collaborazione Con il comune Di Brugnato Organizza una dimostrazione Dell'accessibilità Di un tratto Della via dei monti Per persone Con difficoltà Motoria Per l'occasione Sarà presentata La gioletta In dotazione al CAI Che percorrerà Parte del tracciato Seguito Nel cammino Tutti coloro Che intendono Partecipare All'iniziativa Possono liberamente Aggregarsi Con ritrovo Alle 15 Davanti alla cattedrale Alla scoperta Della contessa Di Castiglione Virginia Oldoini In un percorso Suggestivo Sviluppato Lungo il parco Delle Mura Che ripercorrerà I momenti più importanti Della sua vita E legati profondamente Al territorio Spezzino Il servizio È di Elisabetta Toracca Un modo nuovo Di conoscere Il territorio Spezzino Interessante Anche molto coinvolgente Domenica 10 novembre Alle 14.45 Al parco Delle Mura Che abbiamo qui Alle nostre spalle Avrà luogo Un evento Che unisce Cultura Storia Ambiente E teatro Di che cosa si tratta? Ne parliamo con l'organizzatrice Ebbene sì Proprio qui partiremo E andremo A scoprire Lungo il percorso Delle Mura Del parco Delle Mura Di La Spezia La storia Della città Come si è evoluta Ma il tutto Accompagnato Dalla contessa Di Castiglione Infatti Abbiamo elaborato Dei testi Che avranno E saranno Raccontati Dalle parole Delle nostre attrici Carolina Antonella E Ernesta Sarà un percorso Molto interattivo In cui Chi deciderà Di fare Questo tour Guidato Sarà immerso Nella natura Nella storia E nella cultura Del nostro territorio È uno Dei tanti esempi Che Brit Liguria Pone Al centro Dell'attenzione E del luogo L'obiettivo Infatti È quello Di condividere E di coinvolgere Le persone Per conoscere Ed esplorare Sempre di più I nostri posti Contessa Come sta Napoleone III E Ha nostalgia Della nostra città Napoleone III Sta benissimo Ci siamo visti L'altra sera Nella stanza azzurra Del castello Di Champagne E io sì Sento tanto La nostalgia Di La Spezia Che è la città Di mio padre Delle ville In cui venivo A trascorrere L'estati E dove Dall'alto Vedevo il mare Che ho sempre Nel cuore Senza sempre Il suo profumo E quindi Appena posso Vengo Abbiamo qui l'attrice Che durante questo evento Rappresenterà appunto La Contessa di Castiglione Io rappresenterò La Contessa di Castiglione Nel momento clou Della sua vita Quando appunto Incontrerà Napoleone III Che dire La Contessa è una donna Fatale Che è stata molto importante Per il nostro risorgimento Perché Per Cavour Che è il cugino Del marito Riuscirà A introdursi Nel letto Giusti E quindi anche In quello di Napoleone Per onorare La causa Italo-Piemontese Dove si devono ritrovare I partecipanti E come fare Per prenotarsi Ci troviamo qui Alla spalla Della cattedrale Alle 14.45 Domenica 10 novembre Chiamate Il sito di Briet Liguria Oltre ai canali Instagram E al telefono cellulare 340-899-4452 Sabato 9 novembre Doppio appuntamento Con le iniziative culturali Di Coppio Primo Maggio Si inizia alle 10.30 Al cimitero di San Terenzo Con il viaggio Nel tempo E nella memoria Tra tombe Storie San Terenzine A seguire Nel pomeriggio Con inizia alle 16.30 Nella sala Parrocchiale Italamera Si terrà Il tredicesimo appuntamento Della rassegna Letteraria Curata Dalla primo maggio Dedicata Dalla graphic novel Di Marco Da Ponte Uova Fatali E apriamo la pagina Dello sport Parliamo del palio Del golf Il comitato Delle borgate Neo eletto Che vede sempre Gianello Alla presidenza Lavora al centesimo Intanto E mistero Sullo standard Junior Scomparso Ce ne parla Selene Ricco Le immagini Sono di Raffaele Maulella Siamo con il presidente Del comitato Delle borgate Massimo Gianello E lezioni fresche Dopo la bufera Di quest'estate Possiamo dire Si è tornato Il sereno È tornato Il sereno C'è un comitato Un direttivo Con due ragazzi nuovi Oltre i cinque Che c'eravamo già Quindi abbiamo cercato Appunto Di allargare Un po' Per condividere E creare i presupposti Veramente Perché In ogni caso Si possa andare avanti Che non è che Se manca una persona Poi si blocca tutto È già ovviamente Attiva la macchina Per dare il via Alla centesima edizione Ma intanto Il primo appuntamento È quello Con il trofeo Di Natale Di dicembre Sì sì Certo Con l'amministrazione Stiamo già parlando Di tante iniziative Che si potranno fare Si dovranno fare Stiamo anche lavorando Per cercare Di tramite le associazioni Convolgere il più possibile La città Proprio perché Tutte le persone I turisti che verranno a Spezia Dovranno chiedersi Nei due mesi prima Cosa succederà in città Insomma Questo è un evento importante Sia per il Paglio Fino a se stesso Ma secondo noi Deve essere proprio Un evento importante Per la città Che possa servire Anche come traino Per farla conoscere Ancora di più Per portare turisti Insomma E questo è il nostro scopo Tra gli ultimi avvenimenti Cambiando argomento La scomparsa Del gonfalone junior Quello precedente Ovvero il primo Mai esistito Proprio di questa competizione Che cos'è accaduto? Sì Come il Paglio vecchio Senior È stato consegnato In comune Per poterlo esporre Dopodiché Visto che Non si vedeva esposto Abbiamo chiesto Se ci veniva Riconsegnato Un attimo Per Poterlo Ristrutturare Perché comunque Ha tanti anni E c'è stato detto Che c'era stato Già consegnato Con e-mail Dopo tre giorni Dalla consegna Insomma Una cosa un po' Così complicata E poco chiara A noi non c'è stato Dato niente Non c'è Non siamo riusciti A capire Chi Chi l'ha dato A chi l'ha dato Nessuno È stato Nessuno Siamo riusciti a capire Appunto Chi è che l'ha dato Del comune E a chi E quindi Non sappiamo Se è fuori Dentro il comune Ancora Quindi Noi Questa cosa Oltre che a un valore Affettivo nostro Anche un valore Anche Economico Ci teniamo Particolarmente E quindi Ci stiamo muovendo Per fare Denunce del caso E non ci fermeremo Finché non si riuscirà A capire Veramente Che fine ha fatto Veniamo allo spezia calcio Francesco Cassata Ha prolungato Il contratto Che lo lega Alle aquile Fino al 30 giugno 2027 Spezzino Doc Cassata Tornato nella scorsa stagione Arriva al golfo Dove tutto Era cresciuto Calcisticamente È diventato subito Una colonna Della squadra Di mister D'Angelo Contribuendo alla salvezza Della scorsa stagione E confermando In questo campionato Tutto il suo valore Di calciatore Con lunghi anni Di militanza Nella massima Serie Ricordiamo Come ogni giovedì Parleremo Delle aquile del campionato Di serie Bia Voglia di Spezia Che questa sera Avrà come ospite In studio Il giovane centrocampista Bianco Pietro Candelari L'inizio è fissato Per le 21.30 E ora Basket Importante vittoria Della Landini Leric Al pala sprint Su un Cus Genova Che si presentava Come una delle Capolista Del pertinente Girone di serie C Il servizio Di Andrea Catalani Una vittoria Senza dubbio Che fa coraggio Morale E fiducia In se stessi Quella Che nello scorso Weekend La Gino Landini Lerici Ha guadagnato Al pala sprint Spezzino Di fronte A un Cus Genova Che si presentava Per l'occasione Quale Co-capolista Nel girone A Della conference Nord-Ovest Della serie C Di basket Maschile Ora però I genovesi Vice capoclassifica Non lo sono più Si è ovviato Dunque In questo Caso All'assenza Che rischia Di essere Prolungata Peraltro Del bomber Finico Statunitense Sebastian Booker Anche perché Sul piano De punti Individuali Ci hanno pensato Capitan Putti E un Giovanissimo Della compagine Che ora Andiamo a Conoscere Le immagini Si riferivano Appunto Al successo Sui genovesi Dunque Diciamo così Nella serata In cui manca C'è il bomber Seb Booker L'Alandini Lerici Trova una specie Di top Scorer Anche se Insieme a Capitan Putti Nella manica In questo Giovanissimo Qui È stata È stata Una bella Serata Abbiamo portato Una vittoria A casa Molto importante Abbiamo fatto Tutti Una bella prestazione Il coach È molto Contento Di noi È stata Una vittoria Che ci ha portato A sbatterci Anche contro Delle squadre Importanti In questo Campionato È una grande Soddisfazione Per noi Aver vinto Questa partita Per questa edizione Del TLS giornale Questa era davvero L'ultima notizia Io vi lascio Alle previsioni Del tempo A cura di Limet Centro Meteo Per la Liguria Grazie per averci Seguito E buon proseguimento Di serata Su Tele Liguria Sud Arrivederci Una buona serata A tutti Da Paolo Bonino Vediamo le previsioni Per venerdì 8 novembre In Liguria Infiltrazioni umide Alle quote superiori Determineranno Un temporaneo aumento Della nuvolosità Tra venerdì e sabato Domenica ritorno Ovunque del sereno Ma andiamo nel dettaglio Sulle previsioni Per domani Venerdì 8 novembre Al mattino Cielo in prevalenza Velato Per la presenza Di nubi alte Sottili Possibili strati Di nubi basse Sui versanti padani In successivo Dissolvimento Nel pomeriggio Incremento Della nuvolosità Sempre medio alta Su tutta la regione Ed in serata Non si esclude Qualche sgocciolio O debole pioggia Più probabile In mare aperto Ventilazione Moderata da nord Sul settore centro-occidentale Della costa Con possibili rinforzi Tra la notte E il mattino Deboli variabili Sul resto della regione Mare stirato Sotto costa Sul settore centrale Mosso a ponente Poco mosso Altrove Temperature Stazionario In lieve calo Nei valori massimi Lungo le coste Prevediamo Minime tra 10 e 17 gradi Massime tra 16 e 20 gradi Nell'interno Minime tra meno 1 E 10 gradi Massime tra 11 E 15 gradi Se volete ulteriori informazioni Andate sul sito www.centometroligure.com E non dimenticate di scaricare La nostra app di Limec E non dimenticate di scaricare E non dimenticate di scaricare